Amici ancora una volta benvenuti al canale video di Vittorio Gassinesi e la banda di Matti non sono solo ma oggi c'è una puntata speciale per tutti quanti voi allora abbiamo Demi che riprende e che salutiamo e una alla volta vi presento i personaggi signori abbiamo Ramirez, Gonzales, El Merendero, Raffaele attenzione a te buongiorno, eccomi un attimo che vi prendo, vieni qua, vieni qua riprendi tutto mi raccomando puoi anche allontanarti se vuoi e poi abbiamo il nostro Alpano andiamo amici che hai portato? ho portato 4 litri di vino, acciughe e un panino che dobbiamo cantare, felicità un bicchiere di vino con un panino felicità benissimo, adesso vi presento un altro amico della nostra Alpana di Matti chi abbiamo qui? Mosho Pileto che te la pongo, che te la pongo Mosho Pileto, Mosho, buonastia cosa fa Mosho Pileto? io a Mosho e a Moshe, che è bellissimo Aldano, Mosho Pileto, non siamo tutti manca uno manca uno vengo, vengo, vengo abbiamo perfetto buon giorno il direttore, il preside di la spola di Matti allora scusate abbiamo il preside Raffaele è il maestro qui abbiamo stato ehi, ognuno dica la sua prego vieni qua vieni qua prego signore e signori eccomi Ramirez Michele e poi un bitto mangia la panna a trattamento mangia la panna a trattamento è sto merengie è lì 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 no 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 è vino di Don Carmelo mio padre la Bonali sembra latte veramente sembra latte se voi volete assaggiare anche panino con la mozzarella e alice venite a Cellino San Marino lo so assaggiamo eventualmente cin cin ok grazie invece che cosa e io con Pedrito siamo i ballerinos dei latinos americanos tra le sol vieni qua che balletto che balletto che balletto oh la la scusa venite qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua ma che cosa è questa vieni qua allora scusate possiamo fare che va che c'è è perché è perché è perché a la eh ma la canzone vincere con come la scena quando chi va è così chi è ecco Signori, dopo questa straordinaria esibizione vi rimandiamo alla prossima occasione vi salutiamo e vi diciamo ciao alla prossima ciao